Ah ragazzi! I miei stivali sensuali! E che carciofo? Alleluia! La neva! Va bene che volevo la neva, ma non così tanta! E così abbiamo fatto un pupazzo grosso che ho pubblicato su Whatsapp e poi abbiamo fatto un pupazzo grosso più gnocco! C'è quanto sei gnocco zio? C'è quanto siamo gnocchi? C'è va bene! Costruito by Lauri e Assuntina! Ah ecco Lauri la prima carciofa gnocca che riuscì a incastrare un bastoncino dentro un pupazzo di neve grosso più gnocco! Ma fammi un sorrisino no? No eh! Antipatico! A parte che ti ho fatto cadere il cappello eh! Mi scusi! Mi scusi! S'il vous plait! Ecco! Adesso sei trendy! Ma così sei ancora più trendy! A parte che mi ricordi molto Ash di Pokémon! Ma va bene! Sei sempre gnocco! Non preoccuparti! Poi a parte chi ha ste braccia, chi sembra che dice vieni abbraccia mia zia! Vieni! A parte che ho paura che questi cosi merifichi chissà dove mi fai un male della madonna! Ti abbraccio comunque! Povero pupazzo frenzonato! Mi serve un abbraccio! Benone tutorial su come sedurre pupazzi grossi più gnocchi! Fatto! Mamma mia quanto siamo eleganti! Praticamente ammazza quanto sono belli i vlog iniziati con tipo praticamente troppo belli! Abbiamo organizzato questo compleanno di una nostra carissima compagna Anna Becker! Va bene! Let's go! È arrivato il carciofo! Saluta! È vlog? Sì! Ah regà! Buongiornissimo! Veramente! È sera ma sono dettagli! Sembrano puliziotti ma va bene! Lauri! Siamo in buonissima compagnia! Mi sto leggermente vergognando ma io faccio questo ed altro per voi! mmm buonissima compagnia! mmm buonissima! mmm buonissima! Luis Boccia! Eee! Aca! Il youtuber! Eee! 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 Lauri! 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 Ma non è? No! Ahahahah! Eee! 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 Ahahahah! Eee! Eee! Familiar Faces, Worn Out Places, Worn Out Faces Non è su niente! Ti metti il slide, togli! Massimo! Oddio! Cosa si è scoperto? Mi sta facendo il video! Il parroco vuole fare un saluto ai suoi fedeli della chiesa? Parroco! No, no, no! Seguite tutti! Seguite tutti i laurei blanda! Vedete il slide! Grazie! Mi chiamo? Mi chiamo carcefina.it La cover più sexy del mondo! Questo è davvero bello! Devo vercela io! Io devo la vedere! Io devo... Polastro! 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 Vi spoggio! 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 Abbiamo fatto un boomerang! Troppo sexy! Vi spoggio! I'm sexy and I know it! Tutti intorno ad Anna Pecora! Ciao! 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 Ciao ragazzi! Guardalo come se la gusta, con piacere, guarda, pizzeria, ristorante, le terrazze, non stiamo facendo pubblicità a mangiare, facciamo la pizzeria alle terrazze del bambino. Il ristorante più sereno. Mi chiede, mi chiede, mi chiede, mi chiede, mi chiede, mi chiede, mi chiede. Grande, ma con la mano un po'. Come si chiama elettrina lei? Elettrina! Anche loro blocchiano, blocchiano tutti. Perini, trottino basso di pane, trottino basso di pane. Giardo ci mostra come gestare una pizza veramente buona. Facci vedere come si degusta veramente. Maggi garciopo. Andate a mangiare alla pizzeria alla terrazza. Monti storie. Andate a mangiare alla pizzeria alla terrazza. No placement. Allora, la pioggia in persona. No, la pizzaggine. Non dite niente che ho preso la vegetariana, però a me piacciono le melanzane. E il garbero con feo. Allora, abbiamo elettrina come cameraman. E oggi, Lauri vi insegna come tagliare egregiamente una pizza. Incredibile. Allora, come prima cosa, posizionare col tempo. Fare un movimento sensuale. e chiamare. E voilà, abbiamo le pizze. Voilà, la vostra pizza è pronta. Oh, c'è ancora l'unico. No, c'è ancora l'unico, c'è ancora l'unico. Oh, no, no. La pizza è pronta. Dopo me lo ritaglio. Dopo me lo ritaglio. Che per il compleanno. Dopo facciamo la intro insieme a Laura. Ok. Restate 10 like. Sì, dobbiamo fare la intro, però poi la vediamo. Laura, guarda che formano. Guarda che formano. Cos'è? Cos'è? Grazie. Selfie? Laura, hai rotto? Facciamo un selfie. Laura, siete pronti? 3, 2, 1. Ed ecco com'è finita una felice festa di compleanno. Felicissima. Segrete Carlotta e Anna.